Musica Buonasera a tutti i nostri telespettatori e bentrovati con i nostri appuntamenti in vista delle elezioni politiche. Come tutti sapete il 24 e il 25 febbraio si andrà alle urne per scegliere il premier e per scegliere anche coloro che andranno al Parlamento nazionale. Nell'ambito di questi appuntamenti oggi abbiamo il piacere di ospitare il dottor Antonio Ingroia che è il leader di Rivoluzione Civile e anche candidato premier. Buonasera. Buonasera, ben trovato, benvenuto. Grazie. Un benvenuto in Sicilia dato che lei è un siciliano, ben trovato qui dai nostri studi perché il suo è anche un tour che ha toccato anche Catania, un incontro proprio con Catania. Che cosa dice, cosa dice ai catanesi? Beh, dico ai catanesi che da siciliano sento naturalmente forte tutti i valori della nostra terra e a quei valori si ispira la mia lista solidarietà, uguaglianza, giustizia. La Sicilia è stata una terra che spesso ha vissuto drammi, situazioni anche tragedie, collettive e la giustizia è un concetto che è molto sentito dai siciliani. Io dico che votando Rivoluzione Civile si può avere certezza che si può costruire una Sicilia, un'Italia diversa, una Sicilia che sia più giusta e più uguale, una Sicilia dove si possa costruire iniziativa economica e si possa dare più lavoro ai giovani. Il problema della disoccupazione, come è noto, è un problema che ormai riguarda tutto il Paese, ma riguarda in particolare il meridione d'Italia. E noi di Rivoluzione Civile abbiamo gli strumenti, da un lato per colpire l'economia criminale, l'economia delle mafie, della corruzione, delle caste che hanno divorato il Paese e dall'altro gli strumenti per recuperare questi capitali illeciti e immetterli nell'economia pulita per dare lavoro soprattutto ai giovani, del premiare le imprese che si caratterizzano per la legalità, per dare dei circuiti positivi e anche snellendo le burocrazie che spesso soffocano l'iniziativa economica. Insomma noi vogliamo ricostruire il Paese. Senta, a questo punto della campagna elettorale sicuramente molti le avranno chiesto perché ha deciso di scendere in campo. Io le chiedo ma chi gliel'ha fatto fare la politica? Cioè lei dall'altra parte sta andando? Beh io credo che, ma io l'ho fatto perché sono convinto che abbiamo bisogno di una buona politica. La politica spesso è stata soltanto affari, è stata corruzione, è stata distanza dai problemi degli interessi dei cittadini. Io da magistrato ho spesso ascoltato i cittadini, nel mio impegno la politica l'ho trovata avversaria, politici sono stati miei imputati e molti politici hanno cercato di ostacolare la mia attività. E quindi mi è mancata la buona politica. Allora io credo che per avere una buona politica bisogna innanzitutto avviare un nuovo protagonismo politico dei cittadini che non hanno mai fatto politica. Questa è l'esperienza di rivoluzione civile, una lista soprattutto civica che dà spazio al protagonismo dei cittadini, ma questi cittadini erano un po' timidi. Non se la sentivano di voler fare il passo in avanti. Allora ho voluto dare l'esempio, mettendomi io in campo, impegnando e mettendo in gioco la mia storia, la mia esperienza, per avviare un percorso virtuoso di una nuova politica. Io alla testa di tanti cittadini onesti che vogliono una Sicilia, un'Italia più pulita, ma anche più positiva, ma anche con più occupazione, più lavoro, più impresa. Insomma, avviare la rinascita della Sicilia e dell'Italia nel segno della legalità, dell'onestà, della pulizia. Viva, dico io, viva la rivoluzione civile nel senso che è un modo di incoraggiare gli italiani, gli italiani onesti. Ma chi sono questi politici che l'hanno contrastata, quelli di cui parla? Beh, ovviamente il numero uno è noto, è Silvio Berlusconi. I vent'anni del berlusconismo sono stati anni caratterizzati da una politica fatta da un lato per legare le mani alla magistratura e dall'altra per costruire un'impunità a quella casta rappresentata da Berlusconi e da tutti i suoi accoliti. La legge è di persona, ma sono stata la caratterizzazione di questa stagione che ha cambiato la legislazione italiana, che ha intaccato lo Stato di diritto. Allora, noi, Berlusconi ha lasciato macerie, noi dobbiamo ricostruire questa Italia. Rivoluzione civile, ci vuole una rivoluzione civile, cioè una rivoluzione dei civili, una rivoluzione dei cittadini per ricostruire un paese. Senta, lei per tanto tempo è stato impegnato come PM nella indagine Stato-Mafia ed è proprio di oggi notizia che il PM Ricciardi ha dato il via alla distruzione delle intercettazioni napolitano-mancino. Che ne pensa di questo? Cioè, diciamo, tutto il lavoro che lei ha fatto lo vede buttato al vento? Ma no, il lavoro ha avuto un suo seguito, un suo esito importante nella richiesta del mio giudizio, con la quale ho chiuso il mio lavoro a giugno, a luglio è stata la mia richiesta. L'udienza preliminare è poi iniziata, la stanno continuando dei validi sostituti della Procura di Palermo, è in corso l'udienza preliminare, si aspetta la decisione finale del giudice, lasciamo il giudice Morosini, il GIP Morosini, il GUP Morosini a decidere liberamente e tranquillamente, lui valuterà bene le prove, io sono convinto che ci sono tante prove che la Procura ha acquisito e altro discorso è la decisione sulle intercettazioni, ma quelle non considerano prove del processo. Come è noto c'è stato un conflitto di attribuzione sollevato dal Quirinale su come si doveva arrivare alla distruzione, perché queste intercettazioni comunque anche secondo noi, secondo la Procura di Palermo andavano distrutte, il punto era se andavano distrutte passando da un'udienza in cui venivano depositati a disposizione degli imputati per vedere se gli imputati avevano interesse a quella intercettazione, se potrebbero essere utili per la difesa oppure distruggerle direttamente da parte del GIP. La Corte Costituzionale ha deciso che così si deve fare direttamente dal GIP, il GIP ha deciso così, ci rimettiamo a questa decisione, ma che non incide sull'esito del processo. Senta, ma io ho letto anche tanti dubbi da parte di diversi personaggi, non solo politici, anche cittadini, che sa benissimo su internet, si parla tanto. Su questa storia appunto lei stava indagando così in maniera accurata su questa vicenda molto importante e devo dire che si trascina ormai da tanto tempo. Poi la sua andata in Guatemala, poi il suo ritorno e il suo passaggio in politica. Per quanto tutte le cause che lei ha spiegato sono davvero nobili, però c'è qualcosa anche di strano, lei ha dato uno scossone in questo modo, e ha voluto andare via dalla magistratura per questo motivo. Ma io semplicemente quell'indagine l'ho finita, l'ho finita a luglio e avevo ritenuto che fosse chiusa una pagina importante della mia storia professionale, sono 20 anni di magistratura a Palermo, che ho chiuso chiudendo l'indagine più importante. Infatti le Nazioni Unite mi avevano chiesto di andare in Guatemala dall'inizio dell'anno, dall'inizio del 2012, dell'anno scorso, e io proprio per senso di responsabilità per chiudere prima quell'indagine ho preso tempo e ho concluso soltanto a luglio l'indagine. Chiusa quell'indagine è stata l'indagine più importante degli ultimi anni, non aveva più senso dal mio punto di vista continuare a stare alla procura di Palermo, altri colleghi erano già designati per l'udienza perché io non sarei andato in udienza e quindi sono andato ad accettare questo incarico della Nazione Unite. Nel frattempo ci sono state queste impreviste elezioni anticipate e queste elezioni anticipate mi hanno rappresentato alcuni amici come il sindaco di Napoli, ex mio collega Luigi De Magistris, mi ha evidenziato come anche il sindaco di Palermo, Luca Orlando, mi hanno evidenziato che secondo loro si rendeva necessario qualcosa, una scossa, un nuovo impegno in politica, soprattutto non perché in groia si impegnasse in politica, ma per dare uno stimolo ai tanti cittadini nuovi perché ci fosse una ventata di aria fresca, aria pulita nel nuovo Parlamento, perché si trovasse l'energia per sconfiggere e contrastare la casta dall'interno del Parlamento e io ho ritenuto che si dovesse fare, pur immaginando che ci sarebbero state polemiche, ci sarebbero state critiche, c'è stata anche delusione da parte di cittadini che vedevano in me un magistrato che doveva continuare la sua azione di magistrato, ma veda questi cittadini pensavano questo perché hanno un'idea della politica come qualcosa di sporco, come qualcosa di negativo ed hanno avuto ragione per quello che la politica è stata fino ad oggi e noi però la politica non la possiamo buttare nel cestino, noi la politica dobbiamo nobilitarla, dobbiamo riscattarla e allora ci vuole qualcosa di nuovo, ci vuole una rivoluzione, la rivoluzione dei cittadini e la rivoluzione civile. Gli attacchi alla magistratura vengono fatti magari da quei politici che in quel momento sono indagati e c'è un magistrato, per esempio un politico di destra e c'è un magistrato di sinistra a doverlo giudicare, allora lì che cosa entra in ballo? Anche l'ideologia? No, è il politico di destra che per cercare di squalificare, delegittimare l'indagine cerca di buttarla in politica e dice che il magistrato è di sinistra, il magistrato poi in realtà non è di sinistra, fa semplicemente il suo dovere. Io sono stato un magistrato che certamente ha valorizzato le idee più progressiste della Costituzione, ad esempio, ma questo non significa che fossi un magistrato parziale che indagava e processava soltanto i cosiddetti politici di destra, anche perché mi sono ritrovato di destra, di centro e di sinistra fra i miei indagati, non è questo il punto. Il punto però è che un magistrato anche imparziale ha poi il diritto di mettere a disposizione dei cittadini la sua esperienza per costruire qualcosa e dal ruolo di magistrato si può fare il proprio dovere, si possono punire i colpevoli dei reati ma non si può costruire un'Italia nuova, quella si può fare solo in politica e allora credo che sia anche giusto che i magistrati si è dato la possibilità di fare un'attività politica. Senta, ci spiega perché in Sicilia lei è candidabile ma non elegibile? Non sono sallusti quindi senza polemica? Voglio solo sapere... No, perché la legge dice che i magistrati sono candidabili in tutte le circoscrizioni ma non sono elegibili nella circoscrizione in cui hanno esercitato la loro attività professionale nei sei mesi immediatamente successivi e non sono ancora trascorsi sei mesi da quando io ho lasciato la procura di Palermo e quindi io non sarei elegibile nella circoscrizione di Palermo, lo sapevo bene, ma il punto è che per un fatto simbolico perché il mio nome contrassegna la lista e perché è come un simbolo di qualità della lista nel segno della pulizia e dell'onestà, abbiamo ritenuto assieme ai partner che sostengono questa lista che io dovessi essere capolista in tutta Italia e sarebbe stato curioso che io fossi capolista dappertutto e non in Sicilia. Del resto io potrò essere eletto soltanto in un collegio, non in tutte le circoscrizioni quindi sceglierò la circoscrizione, l'unica differenza che certamente non potrò scegliere ed è molto chiaro, lo dico chiaramente agli italiani, non potrò scegliere la circoscrizione di Sicilia 1 di Palermo perché potrei scegliere invece quella di Sicilia 2 e la Sicilia orientale dove sono perfettamente leggeri. Che è il nostro territorio. Ma poi l'ha denunciato Sellusti a proposito. Beh, in campagna elettorale ho ben altre cose di cui occupare. Però dall'altra parte anche amici giornalisti, come Travaglio, che è stato molto buono con lei a differenza che con gli altri politici a servizio pubblico. Non l'ha citata proprio. Diciamo che più che è stato buono è stato giusto perché sotto di me non c'è niente di negativo da dire e qui evidentemente lui non la dice, ma a parte le battute. Beh, il Fatto Quotidiano non sempre mi ha attrezzato benissimo. Agli inizi il direttore Padellaro criticò il fatto che un magistrato si candidasse in politica, c'è stato anche un dibattito interno, una posizione diversa. Quindi io credo che sia legittimo che anche i giornalisti esprimano opinioni e punti di vista. Poi lei ha iniziato a scrivere col Fatto Quotidiano e quindi è entrato nella famiglia. Sono stato anche collaboratore, veramente prima, ero magistrato quando ero collaboratore nel Fatto Quotidiano, non ho avuto più tempo, ma perché no, tornerò a scrivere. E' diventato anche giornalista. Sono anche giornalista, pubblicista per esattezza, è scritto all'ordine giornalista di Palermo, ma per la verità in passato sono stato collaboratore anche dell'Unità e l'Unità mi sta trattando molto male negli ultimi tempi. E beh, altri leader a cui aspirarsi magari, non so. Il PD, ma il fatto di sostenere il PD non significa poi che si debba attaccare necessariamente i politici di altre coalizioni. Ma noi giornalisti campiamo di questo, no? Ogni testata giornalistica è giusto che faccia le sue opzioni. Ma a proposito di PD, insomma, un giorno ho letto che lei aveva chiuso totalmente al Partito Democratico, anche perché tra Monti e Bersani sembrava stesse nascendo un'intesa. Adesso leggo invece, proprio di oggi, dichiarazioni sue a Genova che potrebbe esserci un'apertura col Partito Democratico ma senza Monti nel post-elezioni. Parla di post-elezioni? Certo, non c'è contraddizione. Io ho aperto un dialogo e un confronto con il PD e questo dialogo e questo confronto non c'è stata nessuna risposta nella prima fase di assestamento quando ancora bisognava formare le coalizioni, le liste e così via. Più di recente, come è noto, c'è stata semmai avanzata una proposta del cosiddetto patto di desistenza, un patto di desistenza che noi abbiamo ritenuto inaccettabile per le condizioni che ci erano state proposte, con i cosiddetti, proposta piuttosto stravagante che ho definito dei senatori mascherati e c'è i senatori che venivano ospitati nella lista del Partito Democratico ma che non devono essere riconoscibili come nostri senatori. Insomma, la richiesta per noi è inaccettabile, noi avevamo parlato d'altro, avevamo parlato dell'opportunità di aprire un confronto sul programma per un possibile patto di accordo di programma con il Partito Democratico purché Monti, che ha portato avanti politiche secondo noi neoliberiste di fatto di destra, non entrasse in una coalizione che doveva essere di centrosinistra. Il Partito Democratico liberamente e legittimamente ha fatto scelte diverse, noi abbiamo riflettuto del Partito Democratico e in quel momento ho detto da oggi si chiude la porta del confronto che non ci sono i presupposti e ci rivedremo in Parlamento. E la posizione mia espressa oggi a Genova è esattamente la stessa. Io dico che il fatto che io abbia chiuso la porta prima delle elezioni e abbia detto ci si rivede in Parlamento non significa che in Parlamento noi faremo la guerra al PD, noi apriremo un confronto. È chiaro che se il Partito Democratico andrà avanti per la strada che sembra tracciata, che è quella di un governo con Monti, non sarà più un governo di centrosinistra e quindi noi saremo ferma opposizione rispetto a questo governo. Se invece il Partito Democratico sarà disponibile ad aprire un confronto con noi, noi siamo disponibili. Il punto è che noi abbiamo una proposta politica, una proposta politica molto chiara. Per un governo che sia contro la casta, contro la politica di Berlusconi e Monti che ci hanno portato ai disastri che ogni italiano oggi sa e vogliamo cambiare il Paese. Siamo dalla parte di quelli che io chiamo i cittadini senza potere e senza diritto. Per dare però potere e diritti a questi cittadini ci vuole un governo e noi siamo disponibili a fare un governo con chi ci sta sul nostro programma, questo programma alternativo. E su queste dichiarazioni sue, sul Partito Democratico è intervenuto Franceschini su Twitter, sa ormai è il canale nuovo di confronto, dicendo che lei ingroia, inganna gli elettori perché sa benissimo che per andare al Senato ci vuole l'8% e quindi magari guarda a noi anche per avere magari forse una via, ha pensato questo? Beh, Franceschini è un'idea un po' stravagante della democrazia e cioè pensa che le elezioni siano finite prima che gli italiani vadano a votare. Io credo che gli italiani debbano ancora andare a votare e quindi Franceschini non può sapere chi prenderà più voti e potremmo anche prendere noi più voti del Partito Democratico. Beh, può darti, certo. Cioè tutto è possibile. Quindi noi riteniamo e siamo convinti, come peraltro alcuni sondaggi ci confortano, ma io dei sondaggi voglio parlare poco perché sono convinto che i sondaggi non sono decisivi per le intenzioni di voto. E poi da oggi non se ne possono pubblicare più così respirate. Oggi la grande maggioranza degli italiani è realmente indecisa e questo è un fatto anche positivo perché dimostra che c'è una grande ricchezza di proposte politiche diverse. Quello che è importante è che gli elettori si dia l'opportunità di conoscere bene le proposte politiche e non fare sempre queste scaramucce con il PD e il PDL che giocano a sostenere che le elezioni sono già fatte, come se si dovesse decidere tra loro e gli altri e gli altri non esistessero. No, invece noi esistiamo. Noi esistiamo, noi aspiriamo e puntiamo a prendere l'8%, lo puntiamo a prenderlo a livello nazionale e a livello regionale. E quindi Franceschini se ne faccia una ragione. E penso che si deve fare anche una ragione per Ferdinando Casini che proprio anche lui a Catania oggi ha detto ma tanto in groia non prenderà nemmeno un senatore. Capisco che noi siamo in questo momento il terrore. Tutti parlano di lei comunque. Capisco che noi siamo il terrore di tutti questi politici della vecchia politica, della vecchia repubblica, della casta che noi vogliamo eliminare. E siamo il terrore proprio perché porteremo dentro il Parlamento, Camera e Senato, tanti cittadini agguerriti che vogliono cambiare questo paese. Ma è vero che lei aiuterà, tra virgolette, Berlusconi? Con la sua candidatura lo sta aiutando? Qualcuno ha detto anche questo? È una favola sempre del Partito Democratico che cerca di terrorizzare i propri elettori con lo spauracchio di Berlusconi e per cercare di terrorizzare gli elettori che vorrebbero votare la rivoluzione civile. Ma gli elettori non sono stupidi, gli elettori non sono dei bambini, bisogna smetterla di trattare gli elettori come degli stupidi. Gli elettori sono adulti, sanno ragionare, sanno pensare con la loro testa e sapranno scegliere. Quello che è importante è mettere le condizioni di scegliere e scegliere non tra nomi, non tra Berlusconi e Bersani. Certo io potrei dire Ingroia ha una storia più importante e significativa e onesta e pulita di tutti gli altri leader messi insieme, ma non voglio metterla su questo piano. Io dico invece agli elettori un'altra cosa, andate a vedere i nostri programmi, andate sul sito di rivoluzione civile, leggete il nostro programma e vedrete che lì troverete misure concrete per risolvere i vostri problemi di ogni giorno, problemi economici, problemi di lavoro, problemi di occupazione e soprattutto vedrete che noi faremo pulizia per una moralizzazione della politica, di questo l'Italia è bisogno. Programma pulito, però una macchietta c'era anche lei nel candidato del Friuli Venezia Giulia che è indagato, tra l'altro per reati abbastanza gravi, per aver dato dei farmaci. C'è molta approssimazione sulle informazioni, in realtà si tratta di un medico che ha avviato una terapia avanzata per bambini che sono affetti da malattie molto gravi e questi suoi rimedi hanno avuto grandi benefici. Io ho incontrato, quando è stato, ieri o l'altro ieri, in una campagna elettorale una persona che non conoscevo, immagino se era il nostro elettore, che mi ha detto non sia ad ascoltare quello che le dicono su questo medico, sul dottor Landolina si chiama, io sono il figlio e il padre, cioè di uno dei ragazzi che è stato paziente di Landolina che gode di grandissima stima in Friuli Venezia Giulia perché ha fatto soltanto del bene. La verità è che le pratiche mediche che lui sta utilizzando sono pratiche ancora, proprio perché è molto avanzato, controverse. Ci sono delle sentenze che hanno dato ragione a lui, ci sono delle sentenze che invece considerano le pratiche come non consentite alla legislazione vigente e su questo sta indagando la Procura di Torino. Ma Landolina proprio perché è una persona per bene addetto e soltanto indagato, le altre liste come è noto hanno dentro dei condannati. E se verrà condannato? No, lui ha detto anzi che se viene rinviato a giudizio per il semplice fatto di essere eventualmente rinviato a giudizio e diventare imputato si farà da parte e si dimetterà. Mentre noi abbiamo Cesaro, ad esempio, nella lista del PDL, capolista in Campania che era l'autista di Cutola, l'avvocato di Cutola e sarà probabilmente il parlamentare di Cutola. Beh, c'è una bella differenza. Senta, a proposito di dichiarazioni, però questa io mi perdoni, la devo leggere perché mi è arrivata come... le leveline arrivano anche a me, no? E quindi, perché è stata proprio qualche minuto fa del senatore Pino Firarello, che lei sono sicura che conosce, e ha detto che nessuno vorrà avere a che fare con ingroia perché sentire dire quello che dice, che non pensa altro alle manette, al sequestro dei beni, io credo che ci vorrebbe qualcuno che sequestri lui, anche per portarlo in commento a riflettere, sugli insulti che fa ad un popolo civile come quello italiano. Questa è la risposta del senatore Firarello alla domanda, accordo con il PD senza monti in groia, che ne pensa? E lui ha detto questo, mi perdoni, la lettura poco efficace, ma la sto leggendo insieme a lei questa dichiarazione. Espresso in modo più rosso come si è espressa da Firarello, sono un po' le stesse cose che hanno detto Casini... Beh, la invita a chiudersi in commento però... No, dico hanno paura, hanno semplicemente paura della politica nuova e della politica onesta che sta entrando in Parlamento. Avevano paura di Antonio Ingroia, pubblico ministero, che indagava sui corrotti e sui complici dei mafiosi, hanno paura ancora di più di Ingroia e delle donne, degli uomini di rivoluzione civile che entreranno in Parlamento perché faranno piazza pulita di questa vecchia politica. Senta, prima lei l'ha detto che vuole fare una legge contro la casta e poi leggevo anche che uno dei suoi primi atti da Premier sarebbe una legge sul conflitto di interessi, visto che di questo si è parlato tantissimo in questi anni e che nessuno ne è uscito impunito. Tra l'altro ha attaccato anche Bersani dicendo che lui è da vent'anni che avrebbe potuto fare qualcosa e non ha fatto nulla. così? Sì, poi diciamo, povero Bersani, neanche lui personalmente, ma comunque il partito che lui non è stato capace di rinnovare in alcun modo porta dietro la responsabilità del mancato intervento sul conflitto di interessi. Loro sono sede del governo, non certamente io. Loro avevano avuto l'opportunità di farlo, non certo io. e il paradosso è che sento dire da questi uomini del PD con una certa faccia tosta che faranno, faranno, faranno tutto quello che non hanno saputo fare fino all'altra settimana perché erano di fatto al governo, anche con il governo Monti, visto che l'hanno sostenuto dall'esterno. In un dibattito l'altro giorno un esponente del PD parlava di introdurre l'autoriciclaggio, di introdurre la legge sul conflitto di interessi, cioè come se arrivassero da un altro mondo. Questo lo possiamo dire noi e io che ho tutte le carte di regola perché politica non ne ho mai fatto e ho spesso fatto il decalogo da magistrato, il decalogo alla politica di quello che andava fatto e sono state sempre lettera morte, ecco perché tutto quello che noi abbiamo chiesto di fare alla politica, la politica non ha mai voluto fare, ora lo faremo noi. Ma perché allora potrebbe esserci questo accordo nel post-elezioni con il PD, visto che lo critica così tanto? Che glielo fa fare? Io dico, ma io non sto correndo verso l'accordo del PD, dico però che la politica... Già, un'apertura indica come un'intenzione. Ma la politica si fa creando alleanze e convergenze. Noi ritengo che andremo incontro a un grande successo. Mi sembra difficile che raggiungeremo da soli la maggioranza relativa per poter fare un governo monocolore di rivoluzione civile, anche se sono convinto che sarebbe il governo migliore per gli italiani, cioè un governo fatto soltanto da donne e uomini di rivoluzione civile. Quindi mi rendo conto che per fare un governo abbiamo bisogno di incontrare convergenze. Quindi dico, noi abbiamo un programma chiaro, se gli altri vogliono venire sulle nostre posizioni e sui nostri contenuti, benvengano. Noi la legge sul conflitto di interessi la proporremo, la porteremo in Parlamento, la proporremo alla coalizione centrosinistra, come la proporremo anche a Grillo, come la proporremo al Parlamento e alla maggioranza come si forme, per formare un governo. Noi abbiamo la nostra piattaforma e siamo pronti a confrontarci, come dissi fin dal primo giorno, da una parte con la coalizione centrosinistra, dall'altra parte con il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo chiuso le porte oggi durante la campagna elettorale, poi si riapre il Parlamento per il confronto. Senta, ma le somiglia o no Crozza? Mi diverte, ma non mi somiglia. Perché non le somiglia? Lei parla un po' più spedito, devo dire la verità, nelle realtà. Crozza sembra un addormentato, è un ingroio un po' addormentato, un ingroio a post-prandiale. Ma io quando lavoro e mi occupo di politica sono molto attivo, non mi addormento sulle cose. Però Crozza è simpatico. Eh sì, ma poi anche perché voglio dire, quando si arriva a essere imitati così in una trasmissione, poi a livello nazionale che tutti vedono, vuol dire che sia qualcuno. È un ingroio simpatico e credo che finirà, visto che tutti i politici degli schieramenti avversi sfuggono a un confronto televisivo, l'unico confronto televisivo che forse riuscirà a fare è con ingroio interpretato da Crozza. Chiamo Crozza a fare un confronto con me. Eh beh, magari, magari. Sarebbe anche qualcosa di simpatico. Allora, continueremo a vedere Crozza per quanto riguarda il lato più divertente e comico, mentre io naturalmente le auguro un buon lavoro, so che ne ha tanto poi in questi ultimi giorni di campagna elettorale, in giro, appunto dicevamo da Genova a Catania in qualche ora, ne ha tanto da fare sicuramente. Certamente, grazie, grazie a voi e dico ultimo appello sempre necessario agli elettori siciliani, votate Rivoluzione Civile, siate sicuri che porteremo i vostri interessi e i vostri diritti dentro il Parlamento per una Sicilia più pulita, per una Sicilia più uguale, per una Sicilia anche più ricca, perché no. Bene, grazie ancora per essere stato qui. Grazie a voi. E grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.